Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo ruby, oggi in versione cappuccetto rosso vi volevo mostrare i libri che probabilmente, e ripeto probabilmente, vedrete nel 2017 probabilmente perché io non pianifico assolutamente nulla io sinceramente sono abbastanza contrario per quanto mi riguarda alle tbiara challenge e quant'altro per il semplice motivo che se io devo programmarmi delle letture, il 99% poi non le porto a termine come le TBR, le challenge e quant'altro, perché per quanto mi riguarda la lettura deve essere un piacere nel momento in cui tu devi essere tra virgolette obbligato a leggere dei determinati libri io non ce la faccio sinceramente, quindi la lettura per me non è solo sinonimo di libertà ma è in continua evoluzione, nel senso che io tendo sempre a leggere i libri che compro subito perché mi incuriosiscono eccetera eccetera quindi il tutto si mantiene su un livello di evoluzione quindi sono abbastanza contrario poi se voi le volete fare, le fate, a me piace guardarvi mi piace seguirvi, mi piace vedere come le impostate le vostre sfide, io le guardo per amor di Dio assolutamente io piace guardare ma non piace farle mettiamola così allora, questi sono i libri che probabilmente vedrete nel 2017 perché sono libri che io devo ampiamente smaltire sono libri che io ho da, sì che io ho da, certo che io ho in libreria da quasi una vita praticamente e quindi devo smaltirli li vedrete nell'arco, spero, del 2017 spero perché tra impegni vari, verifiche e quant'altro poi a gennaio abbiamo quattro verifiche, quattro, ben quattro e avrò molto poco tempo per leggere quindi sicuramente leggerò un libro di melena che mi porta via meno tempo insomma perché voglio dire non c'è un approfondimento psicologico dei personaggi nel 99% dei casi e quindi ho deciso di dedicarmi ai libri di melena bene, incominciamo subito da un libro che io ho qua praticamente da secoli e che non ho mai letto non so per quale recognito motivo però è un libro che devo assolutamente leggere entro e non oltre il 2017 sto parlando della conina dei conigli certo la collina dei conigli di Richard Adams eccolo qui con questo bel coniglione in copertina copertina flessibile, il prezzo è di 11 euro e niente, questo è un semidistopico però ci sono gli animali protagonisti paranoia, il lapino se non sbaglio dovrebbe essere una, questo tipo di lingua il lapino, sì ecco qui quindi devo assolutamente leggerlo adesso non so se riuscirò a leggere il libro il libro in lettura si vede qua no vabbè il libro in lettura, sì lì in fondo dove c'è il mio ditino ed è ovviamente un king bravi quindi questo sicuramente lo leggerò entro e non oltre il 2017 poi un autor poi altri due libri fantasy allora uno è Raven Boy che ho comprato se non sbaglio quest'anno di Margaret Statewater eccolo qui solo che di questo se non sbaglio non ricordo male il terzo deve essere ancora edito in Italia se non sbaglio c'è il primo e il secondo ecco quando sono in queste situazioni sinceramente non so cosa fare perché cioè leggere il primo e il secondo poi magari il terzo esce tra due anni non lo so cioè io non capisco veramente questa queste cose le tempistiche per far uscire i libri non capisco con che criterio vabbè comunque poi farò un video a parte magari sproloquiremo di questo comunque uno è Raven Boy eccolo qui il primo poi un altro libro della sag di un'altra sag è l'Accademia dei Vampiri questo qui anche questo ce l'ho da secoli proprio l'ho comprato tipo nel 2015 2014 non mi ricordo allora anche questo è introvabile oddio io sono riuscito a trovare delle copie a Rimini però gli altri libri costavano sui 14-15 euro so che è stata ritirata e so che deve essere ristampata ora non so se ricomprarlo poi tutto questo venderlo non lo so sinceramente che cosa fare o recuperare tutto in ebook non lo so fatto sta che mi incuriosisce molto la lettura di questo libro ripeto queste scelte delle case editrici non riesco a comprendere non riesco a capirle sinceramente boh vedremo l'evolversi comunque mi incuriosiva perché voglio leggere anche qualcosa di Vampiri la scrittura è abbastanza grande sono 400 io l'ho pagato 15 euro 420 pagine circa e quindi poi altro libri due libri fantasy questo l'hanno letto praticamente in tanti forse manco solo io nella lettura di questo libro è I Cavaliari del Nord di Matteo Struchel di cui è uscito anche il libro I Medici ma a me non interessa sinceramente perché lo storico no sinceramente però sono contento che un autore italiano abbia avuto così tanto successo quello sicuramente questo qua è più sul fantasy sì è anche questo storico ma diciamo che il Cavaliere Teutonici Templari vabbè quella parte del Cavaliere mi incuriosisce molto alcuni ne hanno parlato bene ad altri non ne hanno fatto impazzire poi vi dirò altro libro altro regalo di questo lo leggerò nel 2017 perché così poi spero nella bontà del signore di recuperare il secondo e il terzo è The Queen of the Turling anche questo ce l'ha da secoli l'ho comprato perché avevo uno sconto perché sinceramente è 20 euro questo libro per me è un salasso quindi spero di leggerlo anche se ci sono dei capitoli lunghi come La Fame e niente spero di leggerlo e poi di continuarlo poi arriviamo oh mio dio le saghe ve le faccio vedere dopo allora arriviamo a una storia d'amor questo è uscito il film ma io devo assolutamente leggere prima il libro come devo leggere il libro di The Dome di King per poter per poi poter leggere vedere la serie televisiva su Netflix quindi spero di recuperarlo presto spero sto parlando di Ardi via dalla pazza folla questa è la copertina che richiama la locandina per quale motivo fare questo change non si sa comunque è una storia d'amore molto particolare molto bucolica di questa donna contesa da tre due uomini se no si tre uomini poi diventa un qualcosa di porno comunque da due uomini e quindi vedremo un po' com'è questo questo libro poi altro giro altro regalo due libri uno è di un autore giapponese che è Norwegian Wood eccolo qui c'è dentro qualcosa no di Murakami non mi sono mai approcciata questo autore sinceramente non so se come primo approccio può andare bene guarda non bene devo incominciare con qualcos'altro chi ha dimestichezza con Murakami per favore me lo può dire grazie io l'ho comprato perché se non sbaglio c'era uno sconto di 15% adesso non mi ricordo perché il prezzo pieno è di 14 euro si io 14 euro non li spendevo quindi sicuramente c'era stato qualche sconto in giro si no in giro alla Feltrinelli quindi non vedo l'ora anche questo di leggerlo poi un no la saga ve la faccio vedere ho detto poi un libro che è stato un'arrivazione non ce la posso fare una rivelazione quest'anno è stato il circo della notte voi sapete che tutte le volte che io vedo il circo mi ricorda Selormone il mistero dei sogni con Zirconia mi ricorda sempre quello il circo poi soprattutto questo il circo della notte mi ricorda proprio il tendone di Selormone questo sono riuscito a reperirlo finalmente dopo secoli dei secoli infatti lo metterò sotto una campana di vetro come la rosa della bella e la bestia perché è stato veramente introvabile qualcuno mi ha detto ho sentito che libraccio dava uno sconto via io non lo sapevo perché non frequento libraccio sinceramente mi trovo meglio con Amazon per una questione di prime quindi non pago le spese di spedizione perché se devo spendere saldi per un libro e poi pagare tipo 2-3 euro le spese di spedizione mi girano mi girano un po' i cocomeri quindi sono riuscito a prenderlo da una ragazza di Napoli se non sbaglio è stato veramente molto gentile è un prezzo veramente irrisorio il prezzo di copertina è 18 euro e non so se si trova ancora in giro quindi io spero di leggerlo e di tenerlo proprio stretto al mio cuore poi altri libri che sono qui adesso cade tutto qui allora un libro che anche qui ho da secoli comprato non so dove infatti è ancora in tonso è nuovo l'avevo sentito forse da sissi tube che lei l'aveva letto se non sbaglio ed è un giorno di David Levitan questo è della serie young adult forse David Levitan che ha scritto il ti presento Willy insieme a John Green forse l'unico Green che sono riuscito a sopportare e gli manca questo è uscito se non sbaglio il sequel ma qui non c'è scritto e sinceramente ho detto che il sequel non ne vale assolutamente la pena quindi questo spero che sia una delle mie letture prossime perché veramente poi ho ancora delle giribili della biblioteca i libri dell'altra biblioteca che ho qui oh signore veramente cioè ci vorrebbero le giornate da 76 ore non da 74 allora poi partiamo con un distopico che vabbè voi sapete che io i distopici non li amo perché mi fanno venire ansia allora già ho ansia a casa ansia a scuola ansia quando vai nelle serate nei locali se io poi devo prendere un libro che mi mette ansia ma non quell'ansia la king che dici oh mio dio devo sapere come va avanti quell'ansia da oh mio dio qua sta andando tutto male cioè veramente se devo immaginare un futuro così cioè veramente mi faccio invernare prima ecco quindi più che altro è un livello di ansia diversa no perché comunque il distopico parla sempre di una di una cosa futurista è grazie il cazzo se devo pensare a un futuro così cioè mamma mia vabbè comunque io conoscevo il film che non ho mai visto non so se ancora ripiarebile è un film vecchissimo sto parlando di metropolis eccolo qui qui c'era il solito bollone figo bellissimo si guarda questi bolloni qua io li amo comunque io l'ho pagato a libraccio 6 euro a posto di con il 50% di sconto e l'ho preso in ottime condizioni spero di leggerlo ecco insomma la tizia ma è una tizia o un tizio ah scrittrice è una tizia perché si chiama Thea von Arbor eccolo qui non vedo l'ora di leggerlo poi altro giro qui abbiamo tre romanzi da Murr allora una è di una due sono di tre di autrici una è l'allende l'isola sotto il mare questo l'ho comprato con i 10 euro della Feltinari spero che ritorni perché è stata veramente una bella iniziativa infatti qua non vedete il prezzo perché erano insieme a sì non ho mai letto nulla dell'allende sinceramente l'avevo iniziato poi l'avevo terminato perché volevo dedicarmi ad altro comunque la storia è veramente molto interessante perché parla di schiavismo quindi colonialismo quel periodo lì che io amo tantissimo poi magari vi farò un video su quella tematica che mi piace veramente tanto quindi sulla tematica degli schiavi il cotone e quant'altro poi magari vi consiglierò qualche libro e di vedere qualche cartone animato quindi questa è veramente eccezionale la storia non so come si dipana ditemi voi l'allende com'è come scrive e quant'altro poi allora questi libri ce l'ho da secoli secoli allora uno ce l'ho da un anno perché mi è stato legato l'anno scorso e non ho mai letto sto parlando del Cavaliere d'Inverno di Pauline Simons questo poi continuo con altri due volumi però mi hanno detto ho sentito vedete i due volumi forse non ne vale la pena comunque è stato regalato l'anno scorso e devo assolutamente leggerlo poi altri due libri questo sicuramente lo dovevo leggere per una per un domino letterario poi non l'ho letto così e cos'è così era comunque la figlia dell'ambasciatore di Pan Genoff eccolo qui che devo assolutamente leggere e recuperare perché ma le tinte della Nemirovski e devo assolutamente leggerlo questo è la cosa dei conigli sarà uno dei primi perché ce l'ho da tantissimo tempo e poi un regalo che mi è stato fatto l'anno scorso se non sbaglio due anni fa non mi ricordo Sparks nei tuoi occhi eccolo qui Romance d'Amour dentro c'è un qualcosa ah c'è la mia tessera elettorale dentro eccolo qui e niente quindi spero di leggerlo anche questo in tempi abbastanza brevi perché poi fanno una differenza con Sparks e tutto il resto arriviamo alle saghe allora una saga che devo assolutamente finire è il libro del destino di Elisa Rosso non vi sempre in pandan non vi posso far vedere la copertina perché non ho programmi figure programmi basic di qua di là non ho voglia di tirare fuori il kingdom eccetera eccetera e poi ve ne parlerò di fare uno sproloquio poi continuiamo con un altro libro questo però lo recupererò in ebook se il terzo se non lo trovo ad un prezzo irrisorio sull'ibraccio sto parlando del Jeff Van Der Meer autorità col coniglio satanico in copertina avevo letto il primo mi era piaciuto mi hanno detto che il secondo è un po' moscio e il terzo finisce un po' così nel senso che alcune cose non sono approfondite comunque poi vi farò sapere il prezzo di copertina è tipo di 22 euro qualcosa io l'ho pagato 8 euro 17 euro io l'ho pagato 8 euro cioè sinceramente cioè va bene va bene tutto però di chi è la casa delle Naudi cioè le Naudi ha veramente delle edizioni belle però sono veramente esuose sinceramente quindi spero di recuperare i miei ebook per potervene parlare è passato tanto tempo dalla lettura del primo però qualcosa ancora mi ricordo non sono deficiente fino a questo punto poi la saga continua con Morto per il mondo della Eris e Morto Stecchito eccolo qua della serie della Suki poi non so se recupererò gli altri volumi non so se gli altri volumi sono usciti tutti non lo so perché quando si parla di saghe molto spesso è un alone di mistero insomma quindi vedremo poi una saga che devo assolutamente leggere scusate sto recuperando qua tutti i libri allora il finale di Shadowhunters quindi città del fuoco celeste io l'avevo in lettura poi l'ho accantonato per il momento per la Lady Midnight sto aspettando la brussura perché sinceramente li ho tutti in brussura e quindi faccio pandon con la brussura sì devo dire che per quel poco che ho letto è molto meglio rispetto al al precedente sì no il precedente mi era piaciuto a città delle quello lì con la copertina rosa città delle anime perdute credo vabbè comunque il terzo ultimo vabbè comunque quello dove ne avevo parlato ampiamente maluccio quindi sinceramente spero di leggerlo sì mi stava piacendo ecco insomma sì trovo che il cattivone di turno potrebbe essere un po' più cattivone però spero di finirlo presto e poi altre due saghe che ho lì da un sacco di tempo è la saga di Evernight eccolo qui con il secondo che è Hourglass spero che si lega così e Stargazer Stirgazer forse eccolo qui c'era un quarto però non è sì io questo l'ho recuperato in ebook poi ho preso li ho trovati tutti e tre ad un prezzo li ho comprato l'anno scorso e spero di leggerlo spero di leggere presto anche questi qua poi un'autrice italiana che è Luisa Mattia ed è la saga di Merlino e devo leggere il cerchio del futuro e la magia di Stonehenge sinceramente il primo non me lo ricordo perché è passato veramente tanto tempo quindi spero di finirlo e di leggerlo presto molto bene poi vabbè ce ne saranno altri non vi ho fatto vedere per esempio volevo leggere il recuperare il primo del trono di ghiaccio perché ho comprato ironiamente il secondo la Troisi con i rendini di Nashira il dardo e la rosa per dire la spada di Shannara Rebbe Sacrifice e The Heaven anche quella lì mi piacerebbe leggerla per Cinder sinceramente non lo so perché visto che c'è una montagna di libri da leggere preferirei per qualche mese non comprare più libri perché devo smaltire questi qui cioè avete visto che sono tantissimi quindi adesso vedrò e poi vi farò ampiamente sapere quindi questi non è ripeto non è una TBR questi sono i libri che probabilmente e ripeto probabilmente vedrete nel 2017 alcuni è sicuro che li vedrete perché devo assolutamente leggere gli altri tutto può cambiare tutto può evolversi quindi non chiamate la challenge non chiamate la TBR assolutamente e questi sono i libri molto bene io vi saluto fatemi sapere se avete letto questi libri se non li avete letti se vi sono piaciuti nell'info box trovate tutta la la pappardella di Amazon se magari volete comprare qualche libro eccetera eccetera io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video rimanete sempre qui in campagna adesso che sono ufficialmente in ferie vedrete tantissimi video tantissime cose io vi adoro vi amo grazie per gli iscritti dei commenti voglio ringraziare Carmen che è venuta all'incontro di dicembre è venuta solo lei cioè io faccio degli incontri veramente poracci no perché solitamente gli altri fanno gli incontri e si presentano la diecimila a me già è tanto che si no lei è venuta perché gli dovevo dei soldi e ricordatevi che l'Anister pagano sempre i loro debiti molto bene ho finito ufficialmente di sprolocuare vi mando si sprolocuare vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima ciao